vi ritrovate oggi un video velocissimo sull'accensione dopo aver fatto il nuovo collettore di scarico della marmità andiamo a vedere vediamo un po come suona ciao oggi accendo lo scooter per sentire come suona la nuova marmita con il collettore diretto con le molle che dopo vi faccio vedere e poi intanto che aspetto alla pistola stroboscopica per fare l'accensione regolare l'accensione vedere se è necessario lasciare questo carburatore o magari mettere uno più piccolo c'è che lo accendo una nuova marmita è che è legato video fatto tutto il momento giusto per far sentire come suonava la nuova marmitta e come ho detto adesso non la sua radiatore non so niente quindi noti a insistere però adesso non suona più di scarico non fa più rumore di sfiato lo scarico suonare di scarico non sono più se vi ricordate questo è il collettore che ho fatto con il suo r modifico che ho fatto lo scarico sembra che suona meglio niente adesso aspetto solo che arriva sta pistola stroboscopica almeno faccio la sua accensione vediamo quanti gradi comincia l'accensione della malossi questa e poi boh e poi andiamo avanti intanto seguitemi sugli altri progetti c'è una friga rx che sto andando avanti ci vediamo la prossima ciao